Il titolo suona un po' pomposo, ma occorreva un momento di studio per capire cosa c'è alle nostre spalle e come per altre crisi ragionare sugli strumenti per la ripartenza. Rapporto sullo studio e monitoraggio dell'impatto della pandemia da Covid-19 sui diversi settori economico-produttivi con un approccio di stress test. Elaborato all'ACNEL con il contributo del Censys è stato presentato stamattina, mercoledì 14 luglio. Il rapporto è piuttosto corposo, ma per stessa ammissione degli estensori possono essere individuati 10 assi strategici nei quali si annidano gravi problemi risolti e dove si può agire per cambiare verso il Paese. Le indichiamo in modo sintetico rimandandovi alla lettura del rapporto, il cui link troverete in basso. Necessità di far ripartire gli investimenti dagli antilocali con interventi piccoli ma diffusi. L'importanza di un'infrastruttura digitale all'altezza e di una alfabetizzazione digitale di massa. Ripensamento radicale della logistica e sul rafforzamento porti, interporti, ferrovie e autostrade. Rafforzamento della scuola e del sistema dell'istruzione, puntando sul trasferimento tecnologico e sul rilancio dei rapporti con il mondo delle imprese. Supporto alla transizione digitale degli stretti tessili, il robustimento dell'agricoltura e della filiera alimentare, nonché di tutte le attività che ruotano intorno al turismo, alla filistica, alla ristorazione, all'accoglienza e al tempo libero. Aiuti per l'internazionalizzazione del settore manifatturiero rafforzando il credito. Aumento della partecipazione femminile al mercato del lavoro.